Senz'altro in Napoli ho impiegato 35 anni, un anno di più, un anno di meno. Voglio dirvi che personalmente non ho mai visto una partita di calcio in vita mia. Seguo il calcio con la nazionale in televisione, ma per amor patrio, per il semplice motivo che mi sono sempre piaciuto gli sport individuali, chi sbaglia paga, delle volte sbagliano in due e pagano in nove. Questo qua non mi piace. Ovviamente se il Napoli è diventato uno splendore vuol dire che c'era un gruppo, una squadra, ma non solo anche i dirigenti capaci e questo qua gli fa onore. Alla fine chi vince è perché è il migliore, è un gruppo che collabora per avere un grande risultato. Penso che a Napoli stanno ancora festeggiando. Questa qua era la sorpresa di Pasqua che attendevano nell'uovo e l'uovo si è aperto al momento giusto.